Più decoro nei centri abitati, in particolare nelle piazze, nei parcheggi, lungo le strade di tutte le 40 frazioni del comune di Capannori. Questo l'importante obiettivo cui punta l'iniziativa Operai della Bellezza, promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con Ascit, che ha preso il via ad inizio marzo. Iniziativa con cui viene potenziato, riorganizzato in modo più efficiente il servizio di pulizia manuale del territorio, finalizzato a rimuovere piccoli rifiuti come cartacce, bottiglie, lattini, mozzicone di sigaretta, altri tipi di rifiuti che gli incivili gettano per terra. Oggi a Capannori parte un nuovo progetto, il progetto Operai della Bellezza, un programma di pulizia straordinaria di più di 150 luoghi strategici, centrali dei nostri 40 paesi. Quindi da piazze a parcheggi a parchi pubblici vedremo ogni giorno gli operai di Ascit a pulire dai rifiuti più fastidiosi, dalle bottigliette ai mozziconi, a quei piccoli abbandoni che si trovano nei nostri luoghi chiave per fare Capannori non solo un luogo simbolo di raccolta differenziata ma anche sempre più bello e pulito. Questo progetto è un progetto a costo zero per i cittadini e quindi grazie ad uno sforzo organizzativo è un calendario ben strutturato da parte di Ascit. Due settimane fa un po' a fare i spetti abbiamo cominciato ad applicare quello che avevamo visto sulla carta, quindi ad applicare il calendario e ci siamo resi conto che le tempistiche, i tempi di intervento e le ore da dedicare a questa operazione erano sufficienti come ne avevamo pensate. Questo significa che sostanzialmente c'è una sistematizzazione di un servizio e un'organizzazione migliore di un servizio che vi porta a un miglioramento senza un aggravio di tempi e questi.